Grande soddisfazione per il pugilato sassarese. Federico Serra, 22 anni, si è confermato campione italiano lit sui 49 kg. Il veloce e potente atleta è stato anche premiato come miglior pugile della manifestazione. Un'altra gioia per il suo maestro Domenico Mura, ex pugile di grande talento che si sta proponendo come uno dei migliori tecnici emergenti italiani. Per Federico Serra si sono aperte le porte della Nazionale, prossimi impegni europei e mondiali. Si vocifera che anche Domenico Mura potrebbe avere un ruolo nello staff azzurro. Federico adesso andrai in Nazionale, ti senti carico? Sì, tantissimo. Diciamo che abbiamo lavorato tanto per riuscire a rifare in Nazionale e questo per me è un buon vannovenimento. Non vede falora e adesso cerchiamo di lavorare bene lì. Puntiamo al podio almeno? Sì, per forza, bisogna puntare al meglio. Federico Serra in soli due anni, come inizialmente, era la nostra sorpresa in Italia. Perché appena dopo otto mesi di palestra vince il guanto d'oro. Dopo un anno mi vince il titolo italiano. Un anno e mezzo, un altro guanto d'oro. Dopo due anni si conferma ancora campione italiano. Federico non è più una sorpresa. Penso che Federico sia una realtà.